A pochi mesi dalla morte del fratello Lucas a causa di un incidente stradale, Diane Mello affronta un altro dramma familiare. In queste ore è morta la mamma, Yvonne Dos Santos, a cui era stato diagnosticato un cancro. Ad annunciarle la modella brasiliana attraverso un post condiviso su Instagram in cui esprime tutto il suo amore verso la donna, di cui parlò nel corso della sua ultima esperienza il grande fratello Vip. Mia madre ha avuto dieci figli, vivevamo in una casetta dalle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta, disse ricordando la sua infanzia difficile. Lei faceva la prostituta, disse ricordando la sua infanzia difficile.